La Dricesta c'è sempre, che sia Natale, la Befana, Pasqua, la solidarietà è sempre al primo posto. Sì, per noi della Dricesta c'è sempre la solidarietà al primo posto. Io ho un gruppo di persone che veramente ci mettono il cuore in tutta questa attività solidaristica e sono oltremodo onorata di avere delle persone così di cuore, delle persone così positive accanto a me perché non c'è una volta che io faccio una proposta e che questa non venga accettata. Sono sempre tutti pronti per aiutare i bambini, per aiutare comunque chi è in ospedale perché noi abbiamo tanti progetti anche per gli adulti ma soprattutto per i bambini. Questa è la nostra prima Befana in ospedale ed è scaturita da un invito dalla dottoressa Greco che è la responsabile della pediatria e dal garante l'avvocato Falivene. e cercavo semplicemente un piccolo supporto per poter aprirmi a questa esperienza perché noi ci siamo sempre dedicati al Babbo Natale Carabiniero oramai da 18 anni. Però la Befana è nel cuore sempre dei bambini. I bambini nel giorno della Befana vogliono stare a casa e trovare i doni nella calza. Non potendo essere a casa abbiamo pensato entriamo noi nei loro cuori e nell'ospedale. Ci entriamo così perché resteremo sull'uscio, daremo i regali che abbiamo già suddiviso, abbiamo già avuto tutti i report sui bambini che sono dentro, le loro età, femminucce, maschietti e abbiamo acquistato tutti i doni per loro ma ci sono poi dei doni che ci ha mandato la Lisciani Giochi e poi li daremo sull'uscio, li saluteremo. Però i bambini potranno vedere la Befanina, potranno vedere la Principessa, potranno vedere Topolino e tutti i personaggi da loro amati come Bing, come Spider-Man. Ecco qui vedo il puffo, vedo... Poi ecco qui come sempre l'ipercopo ci ha mandato il suo orsetto mascotte e quindi che cosa a dire? L'unione fa la forza, non c'è niente da fare.